Il mio tradizionale bentrovato al pubblico di Blog Sicilia, si sono celebrati in questi giorni, qualche giorno fa, i 60 anni dell'Istituto Ettore Majorana di Erice, un'istituzione molto importante per tutto il mondo scientifico. Per noi sarà un'occasione per parlare in particolare di urologia, lo faremo con un nostro gradito ospite in studio che vi presenterò fra poco, ma intanto sigla. Dunque, come vi dicevo in anteprima, si sono celebrati i 60 anni dell'Istituto Ettore Majorana, il nostro ospite in studio è il professor Carlo Parvone, grazie per essere qui con noi, lo ringraziamo per aver accolto il nostro invito, con lui parleremo di questo sessantesimo, ma molto più in generale, ci concentreremo su un aspetto in particolare. Professore Parvone, quale? L'urologia come materia. Intanto ringrazio Massimo Viola e Blog Sicilia per avermi dato l'occasione di fare questa intervista, che ritengo possa essere di interesse per i lettori e gli spettatori. In particolare, l'occasione è appunto il sessantesimo anniversario della fondazione del centro Ettore Majorana di Erice. Per chi non lo sapesse, il centro Ettore Majorana di Erice è un centro di cultura scientifica internazionale che è stato fondato dal professor Antonino Zichichi, che è nativo della zona e che fu poi professore di fisica all'Università di Bologna, direttore del CERN a Ginevra, il centro più grande di studio delle particelle nucleari, e che ebbe un'eccezionale intuizione negli anni Sessanta, agli inizi degli anni Settanta, e cioè quella di trasformare un borgo antichissimo, c'era il Tempio di Venere ai tempi dei Sicani, che è Erice, un posto magico, per chi lo conosce, un posto pieno di antichi conventi, antiche chiese, con un panorama eccezionale sulle Egadi, su Trapani, sul nostro mare della Sicilia occidentale, sulle Saline, trasformò questo borgo in un centro di cultura scientifica internazionale. Peraltro io sottolineo che ho conosciuto in tutto il mondo e che è stato ed è il centro di tanti incontri e di tante ricerche, diciamo, ce l'ho pure scambio di conoscenza. Assolutamente. Lui, quale fu l'intuizione? Quella di un'epoca in cui i congressi scientifici standard, classici, si svolgevano in alberghi, quanto più possibile belli, in cui parlavano solo i docenti dal podio, in cui i poveri studenti stavano relegati in fondo, in cui c'era la scena sociale con i posti riservati ai VIP, invece per primo inventò il congresso, diciamo, scientifico di tipo residenziale. Cosa fece il professore Zichichi? Trovò i fondi, trasformò questi conventi e queste chiese in residenze spartane, molto dedicate allo studio, dove c'era tutto quello che serviva per star bene, ma senza nessun lusso, fronzoli, eccetera, e alcuni conventi diventarono delle aule modernissime. E cominciò a riunire, una volta all'anno, i premi Nobel, i professori più importanti del mondo di fisica, di scienze di base, e cominciò a parlare dei problemi internazionali, delle catastrofi planetarie, eccetera, e che ancora oggi è attivo, e si parla tra le catastrofi planetarie, scusate, si sono diffuse, c'è il cambio del clima, c'è l'intelligenza artificiale, e quindi questo argomento, c'è la produzione dell'energia, c'è la compatibilità ambientale, quindi questo nucleo che si riunisce annualmente con le più grandi personalità scientifiche del mondo, è ancora attivo. Poi, una volta che c'era questo centro, a poco a poco si cominciarono a istituire delle scuole, ecco, e qui entriamo nell'argomento nostro, eccetera, si cominciò a fare la scuola di astrofisica, la scuola di cristallografia, poi a un certo punto anche delle scuole di medicina, dove la scuola di urologia e nefrologia fu fondata insieme al professore Zichichi a metà degli anni Settanta, ed è una tra le più antiche scuole di urologia del centro Majorana. E' stata diretta da mio padre, il professor Michele Pavone Macaluso, per tanti anni, e nell'occasione del sessantesimo anniversario della fondazione del centro Majorana di Erice, che ripeto è un fiore all'occhiello, la Sicilia e tutta la cultura scientifica, ha voluto intitolare questa scuola a mio padre. Quindi si chiamerà, oltre che International School of Urology, si chiamerà in scuola internazionale di urologia, Michele Pavone Macaluso. E questa è una di quelle soddisfazioni che evidentemente hanno anche... Una grande soddisfazione, non solo per... Io sono l'attuale direttore, ma è una soddisfazione non solo personale della famiglia è un plauso a una persona che ha dedicato la vita all'urologia, che viene da una storia di urologia che nasce a Palermo. Noi a Palermo abbiamo avuto... costruito il mio prozio Michele Pavone Tesauro, a cui è stata anche ancora la strada, abbiamo avuto il primo reparto di urologia d'Italia, poi mio nonno prese la prima cattedra di urologia universitaria d'Italia, la prima scuola di specializzazione, che ancora sono attive, ho continuato a tenerle attive, adesso c'è il mio collega Simonato che continua in questa tradizione con cui collaboriamo quotidianamente e quindi questo riconoscimento di particolare interesse, non solo personale, ma soprattutto per l'Università di Palermo, che dovrebbe avere tutto l'interesse di continuare a collaborare, di mantenere attiva questa scuola al centro Ettore Maiorano. E dunque questa è l'occasione che ci è stata fornita per parlare di urologia, per farlo in maniera un po' più ampia. Carlo Pavone è professore di urologia all'Università di Palermo e lavora al Policlinico di Palermo, l'azienda ospedaliera Policlinico che tutti conosciamo e dunque la domanda che adesso pongo a Carlo Pavone è quali sono oggi le nuove frontiere di questo che è una branca della medicina particolarmente importante e soprattutto per chi comincia ad avere esigenze più avanti nell'età. Perfetto. L'urologia mi piace definirla una materia molto importante per certi versi anche poco conosciuta. Ultimamente l'insegnamento dell'urologia che si faceva agli studenti di medicina al quarto anno, ancora freschi di materie di base, è stata spostata al sesto dove sono un pochettino più smaliziati e magari hanno meno tempo perché stanno pensando a laurearsi. Ma in realtà l'urologia è una branca seppur meno conosciuta di altre, non so, tutti conoscono la ginecologia, la cardiologia o la radiologia, l'urologia sembrerebbe una branca super specialistica. In realtà l'urologia deve essere conosciuta molto bene da ogni medico perché ha tra i suoi campi di interesse alcune malattie che sono le più frequenti del maschio e anche della femmina. Basti pensare come i tumori urologici sono messi tutti insieme i tumori più frequenti del maschio. Il tumore dalla prostata è il più frequente tumore dell'anziano, messo insieme con i tumori della vescica, del pene, del testicolo e del rene sono la più grande fetta di tumori forse dell'uomo. L'urologia si occupa di un'altra patologia frequentissima di cui vediamo al pronto soccorso quotidianamente decine di casi che è la calcolosi renale. L'urologia si occupa della ipertrofia prostatica benigna, della prostata e che è una malattia che interessa il 100% degli anziani. L'urologia si occupa di argomenti andrologici la cui frequenza è superiore forse anche all'ipertensione al diabete. Ci sono recenti studi che indicano come per esempio i problemi di erezione, quindi i problemi sessuali che impediscono a un maschio di avere una erezione buona coinvolgono circa il 12,5% dei maschi italiani. Che è un dato abbastanza alto. Un maschio su 10 ha dei problemi di erezione nel corso della vita più o meno gravi mi pare che sia molto frequente. Si occupa per esempio dell'eaculazione precoce. Ne soffre un maschio ogni 4. c'è la traumatologia c'è la infertilità infertilità cioè l'impossibilità di procreare interessa almeno una coppia ogni 10. Quindi le malformazioni che sono diciamo di interesse più della urologia pediatrica ma che si vedono anche nell'adulto. Quindi questi numeri quando faccio lezione sia ai medici di medicina gli aspiranti medici di medicina generale sia agli studenti in medicina sia agli infermieri del corso in inglese faccio rilevare come il medico di base il medico di medicina generale il cosiddetto medico di famiglia deve conoscere questi disturbi perché se noi andiamo a calcolare qual è la percentuale di pazienti urologici o andrologici che vede un medico di medicina generale almeno il suo buon 30-40% hanno una problematica urologica o andrologica il riconoscimento del problema è alla base poi dell'avvio ad una terapia opportuna al professionista dedicato e così via certo ci sono delle cose più semplici pensiamo la frequenza delle cistiti nelle donne penso che sia nell'esperienza di ogni spettatrice avere avuto una cistite quindi anche qua il 100% delle donne hanno avuto un'infezione urinaria basti pensare come i problemi di erezione qualche volta anticipano addirittura ad un decennio la cardiopatia ischemica quindi l'infarto del mio cardio quindi se uno va dal suo medico la prima volta così come è obbligatorio fare una valutazione della pressione arteriosa è obbligatorio chiedere come va la vita sessuale del paziente perché può salvargli la vita nella prevenzione delle malattie cardiovascolari scoprire un diabete non conosciuto che è un'altra delle cause frequenti di questo problema una causa per esempio un po' più rara magari un po' più rara che la gente conosce pochissimo ma che in realtà è più frequente del previsto sono gli incurvamenti del pene cioè una malattia per cui dopo i 50-60 anni alcuni uomini notano come il proprio pene si incurvi e si chiama endurazio penisplastica ed è super specialistica e i chirurghi che operiamo questo tipo di malattia siamo pochissimi ricordiamo per esempio come i tumori del testicolo sono una neoplasia estremamente aggressiva che interessa prevalentemente i giovani ma che prima era sempre mortale adesso il 98% dei casi può essere guarita quindi la la conoscenza di come si visita un paziente urologico o andrologico dovrebbe essere conoscenza bagaglio culturale di base di ogni medico perché ogni medico visti queste queste percentuali non può non conoscere bene la materia oggi a Palermo possiamo dire di essere in una condizione di diagnosi e cura un po' a 360 gradi nel settore io penso che il nostro il nostro settore urologico nonostante le difficoltà che in tutta Italia in questo momento ha il servizio sanitario nazionale e nonostante il fatto che sia stato il più antico della nostra nazione ha sicuramente dei professionisti di riconosciuto livello sia nazionale che internazionale e dove diciamo la risposta e la terapia alle malattie urologiche si può dare con efficienza in tutti i casi che io ho citato prima in particolare se vogliamo approfondire qualcosa che magari interessa al pubblico ma cosa c'è di nuovo questa è la domanda successiva quali sono le nuove frontiere diciamo così allora noi fino a qualche anno fa l'urologia aveva il monopolio di tantissimi farmaci innovativi sia i farmaci contro i tumori della vescica e della prostata sia i nuovi antibiotici il famoso citroxin che tutti conoscono è stato un farmaco che è iniziato con l'urologo sappiamo tutti i farmaci che si usano per l'ipertrofia prostatica benigna ed è stato per tanti anni un farmaco di monopolio dell'urologo il famoso viagra che fu il primo farmaco della storia dell'uomo a funzionare veramente sul deficit dell'erezione è stato nel 1998 patrimonio del bagaglio culturale diagnostico e terapeutico dell'urologo dopo il corno di rinoceronte e la pinna di squalo di antica memoria di antica memoria e di antica poca efficienza come tutti gli afrodisiaci quindi noi abbiamo se vogliamo andare campo per campo diciamo un campo generale è quello della chirurgia robotica è giusto che perché adesso la gente dice ah c'è la chirurgia col robot mi opera il robot in realtà non è così in realtà alcuni interventi si possono fare oltre che con l'incisione dell'addome classica anche con il metodo laparoscopico cioè si mettono delle sonde collegate a una telecamera nella pancia e si guarda su uno schermo e si opera con le mani l'ultimo ritrovato è che invece di usare le mani per muovere le sonde laparoscopiche si usa se uno del chirurgo si siede sta più comodo in realtà il vantaggio è che il chirurgo sta più comodo e usa dei joystick diciamo per muovere queste sonde quindi anche se non è un videogioco anche se non è un videogioco addirittura ci sono mentre per esempio le linee guida internazionali che noi seguiamo nel dare le indicazioni terapeutiche io mi muovo sempre con le linee guida europee aggiornate l'anno in corso per dire guarda su questa malattia le ultime indicazioni sono questa diagnosi questa terapia eccetera quindi la robotica è stata certamente la laparoscopia sono state certamente le innovazioni per alcuni tipi di intervento non per tutti faccio una battuta è chiaro che una circoncisione non si può fare con il robot inserendo delle sonde nell'addome però è possibile fare i tumori del rene senza fare un taglio doloroso che era quello lombotomico che si fa ancora ci sono delle possibilità non più di togliere tutto il rene ma solamente il tumore nel campo del cancro della prostata c'è la possibilità di essere di avere una degenza anche magari qualche giorno più breve anche se i risultati sono ancora uguali a quelli della chirurgia standard anche perché l'urologo è abituato dagli anni 50 a usare le tecniche endoscopiche e cioè noi siamo abituati a guardare dentro le urinarie col cistoscopio tant'è che l'urologia nacque come branca della chirurgia generale a Parigi dove andò appunto questo prozio che poi a Palermo costruì il primo reparto di Italia nacque nel momento in cui inventarono il cistoscopio il tedesco Nitz e Röntgen inventa i raggi l'uroografia per vedere l'interno delle urinarie a questo punto l'urologo diventa super specialista già per tanto tempo e già ai tempi dei greci c'erano alcune persone specializzate nel operare i calcoli della vescica senza anestesia senza punti senza catete ma intanto a quei tempi uno con un calcolo in vescica era morto e c'era chi riusciva a operarli nonostante i mezzi limitati chiaramente precursori chiaramente con tutti i limiti del caso e con tutti i rischi del caso questa urologia è sempre stata un campo particolare nella ci sono delle nuove terapie ormonali per i tumori della prostata delle nuove tecniche di ricostruzione della vescica nei tumori della vescica tantissimi farmaci biologici cosiddetti per curare i tumori avanzati di natura urologica nella calcolosi ricorderete forse come negli anni 80 abbiamo avuto le cosiddette onde d'urto extracorporee quindi c'era il poveraccio che faceva il calcolo ogni anno si apriva ogni anno invece noi iniziamo a utilizzare gli ureteroscopi per entrare nel rene da sotto e cominciamo ad usare anche le onde d'urto extracorporee una macchina che sparava da fuori e frammentava il calcolo nelle viurinarie l'ultimo grido oggi è una strumentazione endoscopica ultrasottile in cui si entra nel rene e con un laser si polverizza il calcolo un campo molto dibattuto oggi è la terapia alternativa all'ipertrofia prostatica benigna dove ancora oggi secondo le linee guida la terapia standard è la cosiddetta resezione endoscopica quella che si chiama TURP e c'è chi pensa che si faccia con il laser in realtà è uno strumento endoscopico che fa la prostata ostruttiva a fettine la porta via e consente al paziente di urinare e come abbiamo detto che ne soffre il 100% degli uomini mi rendete conto come le aziende farmaceutiche e elettromedicali sono molto interessate a produrre dei metodi sempre presunti mini-invasivi per trattare questa malattia prima si operavano tutti poi arrivarono i farmaci come gli alfalirici tutti conosceranno forse il mitoval l'oxatral l'omnik l'urorec l'avodart e quindi molti pazienti che prima si operavano oggi vengono trattati con terapia medica negli anni 90 partirono tante tecniche cosiddette mini-invasive cioè senza anestesia senza catetere senza degenza in realtà sono state tutte abbandonate e oggi stiamo assistendo a un ritorno di alcune di queste tecniche ce n'è una in cui si infiltra un ago nella prostata e si si inietta del vapore acqueo che si chiama Reizum e che c'è una forte spinta commerciale in realtà ancora non è una terapia considerata standard scientificamente valida e può avere delle complicanze si deve fare l'anestesia il catetere spesso si mette lo stesso quindi prima di ascoltare queste sirene delle nuove metodiche le onde d'urto per il deficit dell'erezione ci sono tante cose il cui senso è relativo e la cui scientificità è ancora tutta da dimostrare quindi siamo comunque all'avanguardia e sempre pronti a recepire le nuove tecniche e a applicare quelle che si dimostrano assolutamente assolutamente bisogna essere aperti alle nuove tecniche non bisogna essere incauti sulla pelle del paziente perfetto noi ringraziamo perché il tempo della nostra disposizione è finito il professor Carlo Pavone per essere stato con noi speriamo di aver fornito delle informazioni che siano utili a chi ci ascolta e a chi ci legge vi rinnovo l'appunto evento per il prossimo Talk Sicilia arrivederci grazie grazie a tutti Grazie a tutti